Il patto è là e i due piedi qua. Aspetta che ora sta iniziando, adesso sta iniziando, può darsi che quando facciamo... ...come scatto, come single. Ferma, blocca? Sì. Vieni qua, se no, vieni un attimo. La lascio un po' larga così. Zoom così, qui appena appena schiaccia, metti a fuoco. Non ho mai il tempo, il tempo di schiacciare. Abbastanza veloce, perché questi vanno, eh? Sì. È veloce. E' un tempo di schiacciare. Vedete un attimo qui. Sì, sì. Saiba. Ve lì, senti? Saiba, saiba. Saiba. Tiè. Sto anche dentro, quella, eh? Vieni fresno, vieni fresno! Femme la finta, volevi! Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. , a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. , 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 a tutti.